Per avviare Ripano bisogna fare doppio clic nell'icona contenuta nella cartella del programma. La schermata che si presenta all'inizio è questa, eccola qua. Praticamente sono le scansioni inserite in Google, in alcune immagini satellitari. E sono colorate in base all'altezza, diciamo, alla quota. In arancione le stazioni a quota maggiore, mentre le celeste, come si vede in basso a destra nella leggenda, quella a quota più bassa. È possibile cambiare diverse, diciamo, basi, basi sulle quali, diciamo, sono sovrapposte le scansioni. Ecco, andando su scan, è la planimetria ottenuta dalle scansioni. Allora, intanto possiamo fare doppio clic su ognuna di queste scansioni per andare a vedere le immagini sferiche. Le immagini sferiche. E anche in questo caso, andando su View, è possibile vedere diverse... Ecco che queste qui sono le immagini che derivano dalle foto, mentre queste qui sono immagini derivanti dalle scansioni. Allora, è possibile già da questa, in questa visuale, poter prendere delle distanze. Ad esempio, se volessimo misurare l'altezza dell'edificio, clicchiamo qui, fino al punto a terra. Ecco qui, è 19 metri e 30 di altezza. Ritornando sul top view, ecco qui, ecco, magari andando nella vista scan, è possibile estrapolare diverse piante, sezioni e prospetti. Ad esempio, facendo una sezione di... Ecco, in questa vista, tracciamo una linea, in questo senso, che abbia una vista verso l'edificio rilevato. E in questo modo è possibile inserire nel prospetto che andiamo a generare, i dati derivanti da tutte le scansioni che sono nell'arco di 30, 40, 50, 100 metri da questo punto. Per cui consiglierei di inserire tutti quanti i dati, in modo che appunto ci sono i dati di tutte le scansioni. Cliccando su Generate, si genera appunto il prospetto che abbiamo indicato. Questo qui è la foto del passetto su Via Scienzi. Poi è possibile andare a cambiare le diverse impostazioni. Per cui, se volessimo... Ecco, la profondità della sezione. Per cui, in questo caso è una sezione, ma se volessimo fare un prospetto, dunque andare oltre questa sezione, dovremmo andare a selezionare una profondità maggiore. Magari indichiamo 5 metri. Ci vuole un po' di tempo per caricare, ma ecco che in questo modo si vede tutto quello che era tracciato in quella linea per 5 metri. Magari ecco, non è sufficiente per vedere anche... Facciamo 8 metri. Vediamo cosa si vede andando 8 metri oltre la linea che abbiamo tracciato. Ed ecco che con 8 metri andiamo a vedere tutto quello che appunto troviamo andando nella profondità che abbiamo inserito. E' possibile farlo sia per la parte frontale che per il back. Dunque, andando a prendere tutto quello che c'è dietro alla linea che abbiamo inserito. Proviamo con 7 metri. Ecco qui il prospetto. Allora, qui ci sono poi diverse impostazioni. In questo caso in rosso ha evidenziato la parte di sezione, il taglio diciamo, dove abbiamo fatto la sezione, che si può evidenziare o meno. Ecco, togliendolo non si toglie il rosso. Oppure è anche un'altra impostazione che è possibile applicare. Possiamo applicare l'impostazione di un prospetto che si ottiene in base alla profondità, diciamo. Dunque, avremo in blu i colori più vicini e in rosso le distanze maggiori. Si può ovviamente scegliere anche il colore di fondo della scansione. Ora, bianco, se volessimo applicare il nero, ecco che. Già, da qui potremmo andare a scaricare, a fare il download, il download di quello che abbiamo ottenuto. Allora, in questo caso abbiamo i punti 1 e 2, in questo modo, e è possibile anche andarli a, ad esempio, se volessimo 395, se facessimo 398, andremmo a alzare la linea del punto 2. E magari per abbassare anche la linea del punto 1, facciamo un 375, così da dare un'impaginazione migliore. Ecco qui. E' possibile, come dicevamo, esportare il prospetto, in questo caso, la sezione prospetto che abbiamo generato, facendo download. E con il download si viene a creare un PDF di questa immagine, oppure in indexf, ma ovviamente non sono linee, ma è un'immagine scalata che si può importare su AutoCAD. E poi ci sono anche diverse altre applicazioni, come ad esempio il footer e il ruler, che sono praticamente le impostazioni in basso alla pagina, oppure le indicazioni, i parametri che ci sono nel bordo superiore e sinistro. Ok, chiudiamo. Questo qua si può cancellare, oppure si può anche cancellare il prospetto che abbiamo fatto. E' possibile inoltre anche andare a estrapolare una pianta. Ma, ok, ad esempio, se la vogliamo fare, non sappiamo a quale, se volessimo estrapolare una pianta, una planimetria di questo, dell'edificio che abbiamo rilevato, dobbiamo sapere anche una quota, no? Per cui, andando magari su una, doppio clicco su una delle scansioni che abbiamo fatto, ecco, volessimo fare una, una planimetria, dobbiamo sapere anche a quale quota. Per cui, ad esempio, cliccando su marker, andiamo a vedere la quota che ci potrebbe interessare. Per cui, se la volessimo fare a questa altezza, andiamo a scegliere 300, ecco, 385. Per cui, proviamo a fare una sezione a quota 385. Dunque, andiamo, torniamo sulla schermata di prima, andiamo su scan, selezioniamo plane view in basso, e andiamo a cliccare su quello che potrebbe essere un rettangolo. Facciamo così un rettangolo che poi, comunque, si può girare in qualsiasi momento. Ecco, basta cliccare su uno degli spigoli e trascinare in basso e poi si aggiusta. Ecco, e si può anche ruotare. Anche in questo caso andiamo a prendere i dati di tutte le scansioni e clicchiamo su generate. Allora, di default ha preso quota 380, però dobbiamo, nel nostro caso era 385, per cui andiamo a cambiare la quota dell'elevation. Qui in alto a destra andiamo ad indicare 385 e diamo refresh per creare la nuova planimetria. Sono dati milioni e milioni di punti, per cui ecco, ci vuole un po' di tempo. Intanto andiamo a vedere che anche in questo caso, ecco, in rosso sarà indicato il piano di taglio. Ci sono anche in questo caso diverse impostazioni, come i colori, si può mappare in base alla profondità rispetto al piano di taglio, l'opacità dei punti che eventualmente si vengono a creare, il colore di sfondo, le impostazioni dei parametri e della leggenda, in questo caso in basso. Noi abbiamo, in questo caso, prende di default 2,5 m, però ovviamente 2,5 m è una fetta importante, per cui, dunque ha preso anche i pavimenti sicuramente, perché da quota 385, se scendiamo di 2,5 m, prende i pavimenti e magari anche quello che c'è sotto ai pavimenti stessi, per cui magari sarebbe opportuno. Ora finiamo di, facciamo generare questa planimetria, poi la andiamo a modificare. Magari facendo una sezione, una fetta, diciamo così, di 20 cm, sarebbe più adatto per la creazione della planimetria, se no sarebbe molto appesantita. In ogni modo, già così, abbiamo il, ecco le linee, le linee dei muri, però è abbastanza carica, diciamo, perché ci sono tutti i pavimenti. Quindi, dunque, andiamo a cambiare le impostazioni e diamo, punto 2, una fetta, praticamente, di 20 cm, a partire da 385 a scendere, perché abbiamo indicato below. Ovviamente, above, andremo a fare nella parte superiore. Ecco qui che genera la planimetria. Sempre, come prima, possiamo esportare, ora sta caricando, siamo al 68%, quando ha finito sarà attivo il download in basso, e in questo caso sempre possiamo esportare PDF, DXF, immagine, da poter importare direttamente in AutoCAD, come in questo caso abbiamo fatto una planimetria, una planimetria dove in AutoCAD si può importare in AutoCAD e andare a inserire le quotature e quello che è necessario. Per cui, ecco, non servono particolari strumenti o software. Questo, credo che sia nel balcone, è una rete, credo che ci fosse una rete, dunque, ecco, è indicata anche la rete, poi andiamo a vedere magari dalle scansioni. Comunque, sono tutti gli spessori dei muri, ecco, già qui, è possibile fare un'analisi di quella che è la struttura. Lo possiamo fare alla quota che desideriamo, ho indicato 385, ma se andiamo a indicare, non so, 380, magari andiamo al piano sotto, dove però non sono state fatte le scansioni in tutti gli ambienti, dunque avremo una situazione diversa. Però, ecco, è possibile farla alla quota desiderata, ovviamente fin quando e fin dove abbiamo i dati. Ecco, a quota 380 ci sono, infatti, siamo passati al piano terra, ecco qua le sezioni dei pilastri. E comunque è estrapolato, sì, questo qui è il passo su Via Scensi, e questo è lo spessore del muro che dà appunto su Via Scensi, e l'interno del porticato. Però, anche in questo caso, abbiamo ottenuto una planimetria del piano terra. Allora, chiudiamo, si può mantenere, oppure con Delete si può cancellare quello che abbiamo creato, ma è possibile farlo in qualsiasi momento, per cui andiamo a chiudere. Allora, andiamo a vedere, da qui, doppio clic in questa scansione per avere un riscontro su quello che vedevamo prima. Ah no, questo è il piano sotto. Andiamo con il top view, e vediamo, allora, a quota più alta, per cui le, ecco qua, sono queste qui arancioni, perché quelle a quota verdi sono a quota più basso, dunque al piano terra. Vediamo, in questo caso, doppio clic su questa, dunque dovremmo essere sul terrazzino interno, diciamo. Ecco qua, quello che vediamo prima, infatti, erano le, questa, questa rete. Vediamo da immagine fotografica, anziché immagine true color, per non volare i punti. Ecco, quello che vedevamo, abbiamo fatto praticamente anche una sezione di questa rete, che vedevamo qua. Dopodiché abbiamo fatto le sezioni di queste colonne e della rete. Top view. Possiamo andare all'interno di tutti gli ambienti, per prendere ulteriori misure, anche da qui, oltre ad avere delle immagini sferiche di tutti gli ambienti, anche qui è possibile prendere misure e quant'altro. Per poter prendere delle misure, però, ecco, è opportuno andare su true color, anzi, perché dalla vista camera non ce lo fa fare. E un'altra cosa interessante è anche quella di poter estrapolare, o meglio, disegnare e anche esportare poi in AutoCAD quello che ci interessa. Ad esempio, se volessimo esportare in AutoCAD questo elemento, lo andiamo a perimetrare, come in questo caso, patto. Eccolo qua. E una volta generato, poi andiamo su DXF e ce lo scarica. C'è la possibilità di scaricarlo, basta salvarlo dove si desidera. Il programma crea una cartella zippata e ci crea, appunto, in questo caso, una polilinea di quattro vertici, però è già georeferenziata e si può andare a inserire nel contesto, nei prospetti che già avevamo creato. Chiudiamo. Ovviamente è possibile prendere distanze di qualsiasi forma. Ecco qua una porta da 2.12, ma insomma, qualsiasi, è possibile insomma estrarre qualsiasi informazione. Per cui abbiamo visto piante, prospetti e sezioni. Questo è possibile ottenere tutto. Questa qui è il side view, dunque, prospetti, sezioni oppure planimetrie. Il concetto è lo stesso. Per cui questo qui è un tutorial un po' di massima. Comunque il programma è abbastanza semplice e intuitivo. Ci sono diverse impostazioni, ma poi ecco, basta giocarci un attimino e possiamo vedere, insomma, vedere, attivare quello che è di nostro interesse. Qui ecco ci sono le sezioni, le viste che abbiamo generato in precedenza e si possono cancellare, in questo caso con delete, ecco qua, che abbiamo cancellato i dati che avevamo ottenuto. È anche possibile addirittura mandare questo link, ecco, tramite questo indirizzo IP a chiunque volesse vedere, diciamo, il programma. Basta tenerlo attivo in una postazione e poi fornire o questo codice QR o questo codice qua che si viene a generare, questo codice, questo indirizzo IP. E qualsiasi persona si può collegare anche da telefonino alla nostra scansione, al nostro modello digitale. Ecco, questa qui è un po' un... Ecco, in questo caso ci fa vedere tutti i parametri, coordinate geografiche, quota e... in tempo reale. Per cui, questo qui è un tutorial di massima, per qualsiasi necessità siamo a disposizione. Poi, per concludere, l'oggetto del nostro incarico era il rilievo del palazzo dei priori, ma ovviamente ovviamente nella scansione abbiamo... ci sono anche ulteriori elementi, per cui se dovesse essere necessario contestualizzare anche la scansione rispetto agli edifici interni è possibile anche, ad esempio, estrapolare una planimetria dell'intera piazza con quote del pavimento e ingombri degli edifici circostanti e quant'altro. Ecco, magari lo possiamo fare anche in una fase successiva. Top più. Allora, se andiamo a fare una sezione, ad esempio, della piazza che non era appunto... Ah, ok, magari a volte da un warning, per cui in questo caso è opportuno chiudere... anzi, no, a volte comunque potrebbe dare degli errori... Sì, come in questo caso. Magari, ecco, non so, evidentemente c'è un... c'è un bug e... dunque, magari chiudere e riaprire il programma. Però, come dicevo, è possibile fare anche... ottenere una planimetria della piazza e una sezione del... per vedere anche il piano quotato, no, della... della piazza o... o gli ingombri degli edifici circostanti. Sempre con la stessa metodologia. grazie a tutti... Grazie.